Oggi vi propongo una ricetta facile e sfiziosa, gli involtini di pollo con zucca e gorgonzola. Saporiti, cremosi, ghiotti, saranno la carta vincente dei vostri menù. Beh, andiamo in cucina e prepariamoli insieme. E vedi che ti mangi! Puliamo la zucca svuotandola da semifilamenti interni, tagliamo la fettina, eliminiamo la buccia e poi tagliamola a cubetti. Tritiamo molto finemente le erbe aromatiche, io ho utilizzato un po' di prezzemolo, un rametto di rosmarino, ovviamente sfogliato dal gambo e una foglia di salvia. Facciamo rosolare uno spicchio d'aglio schiacciato con un po' d'olio. Aggiungiamo la zucca a cubetti ed insaporiamola con un pizzico di sale. Aggiungiamo anche mezza tazzina d'acqua, amalgamiamo bene il tutto, copriamo con il coperchio e lasciamola cuocere a fuoco dolce per circa 8 minuti. E fino a quando non si sarà completamente ammorbidita, al termine della cottura aggiungiamo le erbe aromatiche tritate e proseguiamo la cottura per altri pochissimi minuti. La zucca è pronta, teniamola da parte. Prepariamo le involtine di pollo. Ci occorreranno fette di petto di pollo tagliato molto sottili. Aggiungiamo la fetta di speck e poi al centro un pezzetto di gorgonzola. Richiudiamo la fetta di pollo su se stessa e poi avvolgiamola ed allotoliamola partendo dalla parte più stretta della striscia. Man mano che allotoliamo stringiamo bene in modo da contenere perfettamente la farcitura. E fermiamo l'involtino con uno stuzzicadenti. Procediamo in questo modo per tutte le altre fette di pollo e poi passiamo gli involtini nella farina, facendo attenzione ad eliminare quelle in eccesso. In una padella facciamo sciogliere un pezzetto di burro con un po' d'olio. Appena ben calda aggiungiamo gli involtini. Uniamo anche un po' di rosmarino e un po' di alloro. Facciamo rosolare gli involtini da entrambi i lati per circa 3-4 minuti e fino a quando non si sarà formata una crosticina dorata. Quando saranno ben rosolati, copriamo con il coperchio, lasciamoli cuocere a fiamma bassa per 5 minuti, aggiungendo se occorre un goccino d'acqua. Possiamo eliminare le erbe aromatiche e anche il coperchio e sfumare con un goccino di vino bianco. Lasciamolo evaporare a fiamma viva, scuotendo di tanto in tanto la padella. Quando il vino sarà completamente evaporato, aggiungiamo la zucca. Proseguiamo la cottura per altri pochi minuti, fino a quando la zucca non avrà completamente avvolto il pollo, formando una cremina deliziosa. Gli involtini di pollo con zucca e gorgonzola sono pronti per essere gustati, caldi e super cremosi. Preparateli e vedi che ti mangi! Preparateli e vedi che ti mangiare. Preparateli e vedi che ti mangiare. Preparateli e vedi che ti mangiare.